veronica peparini e andrea smuller sono tra i protagonisti della nuova edizione del reality show la talpa condotto da diletta leotta questa sera andrà in onda l'ultima puntata a causa dei bassi ascolti entrambi si sono impegnati al massimo per vivere al meglio questa esperienza ma sul web non sono mancate le critiche soprattutto per aver lasciato le loro figlie piccole per partecipare al programma lontano da casa a difendere veronica e andreas è intervenuta marina la rosa un'altra protagonista del reality che ha risposto alle critiche con fermezza molti ritengono che sia stata una scelta sbagliata lasciare le due gemelle ginevra e penelope per partecipare al reality tuttavia marina ha sottolineato che entrambi sono professionisti dello spettacolo e partecipare a programmi televisivi fa parte del loro lavoro marina ha difeso veronica e andreas anche rispondendo alle domande dei fan sui social media ha chiarito che le figlie sono rimaste con i nonni e che i genitori lavorano tutto il giorno inoltre ha sottolineato che le gemelle non sono state maltrattate e che si vede quanto siano felici guardando il programma in conclusione veronica peparini andreas muller hanno affrontato le critiche con determinazione dimostrando di essere professionisti e genitori attenti la partecipazione alla talpa è stata un'opportunità per tornare a lavorare dopo la nascita delle figlie e marina la rosa ha difeso la loro scelta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti